Grazie di essere venuti, ci sono un po' di amici, compagni che stanno raggiungendo la sala, c'è qualche minuto di ritardo, ma io direi di cominciare, perché poi l'introduzione favorirà, spero, una discussione che occuperà il pomeriggio e comunque mi pare che ci sia già una buona presenza. Ora, lo ricordava Patrizio, la giornata non è felice, non è la più felice, però, guardate, da tempo era necessario vedersi, parlarci e decidere assieme come riannodare quel filo di idee, di passioni che, al netto di tutto, noi nei mesi passati abbiamo mobilitato. E' un lunedì, un lunedì pomeriggio, un giorno feriale, molti lavorano, il prefetto di Roma ha sconsigliato di raggiungere la capitale, se non per gravi necessità, e, come si vede, quanto a scegliere il momento adatto a noi non ci batte nessuno, sotto il profilo almeno dell'opportunità della data. Però il Tevere è sotto controllo, la piena è passata e quindi è un pomeriggio che possiamo affrontare con una relativa serenità. Io devo dirvi però che anche chi non è potuto venire, ha detto in parole molto semplici, partiamo. Partiamo, cerchiamo di capire assieme come si procede, perché soprattutto dalle diverse regioni la domanda è quella. Adesso come si va avanti? Come si riparte? Come si va avanti? In queste settimane noi ci siamo visti spesso con i parlamentari. Guardate, non per un privilegio, che in parte anche c'è, ma per un'agenda dei lavori che imponeva un coordinamento tra di noi. Però per me è del tutto evidente, e la riunione di oggi credo sia molto importante, che solamente dai territori può ripartire il progetto di una buona sinistra. Come è del tutto evidente, ai miei occhi, che questo rilancio deve poggiare su basi politiche e culturali solide, ma questa volta deve poggiare anche su delle solide radici organizzative. Io penso che oggi sia un'occasione utile per ragionare su entrambe queste cose e fissare insieme i passaggi, almeno alcuni passaggi, quelli fondamentali dei prossimi mesi. Ora, per non rubarvi troppo tempo, dal momento che la sintesi non è il mio pregio, se ce n'è qualcun altro, se ne ho qualcun altro, cercherò di essere brusco ai limiti del rapido, ai limiti dell'essere brusco su alcune vicende e alcune ricostruzioni. E partirei da qui, dovendo riassumere l'ultimo anno, quello che abbiamo alle nostre spalle, potremmo anche dire così. Dopo le elezioni di febbraio, del 24 e 25 febbraio, dopo il tormento del Quirinale, le dimissioni di Bersani, a Pierluigi l'abbraccio e l'affetto che sa che da qui gli arrivano. E dopo la nascita del governo Letta, l'anno passato si è chiuso con il successo netto di Renzi e la svolta che noi abbiamo sotto gli occhi. Noi quel congresso lo abbiamo affrontato sapendo che la prova era difficile, per alcuni versi impossibile, ma era un dovere accettarla e viverla nel solo modo giusto, secondo me, e cioè mettendo al centro una buona idea della politica, della sinistra e del Paese. Abbiamo fatto degli errori? Certamente sì. E guardate, potendo spostare le lancette all'indietro, non rifaremmo tutto allo stesso modo. Per primo io. È stata una sfida assegnata dallo squilibrio di mezzi, media, popolarità. Ma anche questo è vero. Com'è vero che hanno pesato altri aspetti, la nostra lealtà assoluta verso il governo, secondo molti persino eccessiva? E poi l'immagine, in parte reale, in parte forzata, di una continuità con le stagioni passate, come se il confronto non fosse tra due innovazioni, ma tra una spinta a cambiare tutto è un'altra parte la nostra più preoccupata di conservare il buono e il meno buono di un tempo concluso. Io l'ho già detto, ma sento di doverlo ripetere anche qui oggi davanti a voi. Al netto dei limiti della mia candidatura, limiti che, vi assicuro, io conosco molto bene, il prezzo che abbiamo pagato per questo marchio di continuismo è stato severo. Diciamo che Renzi è apparso l'interprete di una frattura considerata non solo matura, ma persino tardiva. È vero, è verissimo. Noi tra gli iscritti abbiamo raccolto un consenso importante, quasi il 40%, e non era scontato. Ed è anche un fatto che la partecipazione alle primarie si è decuplicata, circa da 300.000 iscritti a 3 milioni quasi di elettori. Ma il successo di Renzi non è stato un frutto maturato solo o prevalentemente fuori da noi. Quella spinta a chiudere una stagione a destra, ma anche nel nostro campo, è stata condivisa da una parte del nostro mondo. Io parlo di un popolo della sinistra che, a torto o a ragione, ha creduto che solo un cambio brusco, brusco di stile, di linguaggio, di contenuto, di pagina, poteva restituire al PD lo slancio delle sue ambizioni. Guardate, molte volte in queste settimane io mi sono chiesto se in questa scelta vi sia stato anche un elemento di ingenerosità, di scarsa generosità verso le biografie e il percorso di questi anni. E sinceramente mi sono risposto di sì. Secondo me c'è stato anche questo elemento, ma sarebbe una consolazione lieve usare questa motivazione come scudo alle nostre responsabilità. Io credo sia più serio, più utile, se vogliamo ripartire con il piede giusto, cogliere la radice di verità che è vissuta in quel messaggio, secco, anche doloroso, se volete, ma nel caso di tanti un messaggio sincero. Ora, perdonatemi la parentesi, ma è anche l'eresia, ma insomma, parafrasando Gaber, magari c'è chi ha votato Renzi per dare un colpo alla sinistra e chi lo ha votato perché di sinistra non si è mai sentito. Però ci sono stati molti, moltissimi, che Renzi lo hanno scelto perché alla sinistra volevano e vogliono bene e hanno pensato in buona fede e mossi da una convinzione profonda che quella fosse la sola strada per tornare a vincere. Ecco, noi a questa parte del nostro mondo dobbiamo prima di tutto rispetto, ascolto e rispetto perché lì ci sono una radice popolare e una passione che ci chiedono il coraggio delle scelte che non abbiamo fino in fondo compiuto. Io credo che questa verità dobbiamo affrontarla. L'esito del congresso è anche, non solo, ma anche la conseguenza delle riforme che noi non abbiamo portato a compimento. di un impegno a ripensare il partito annunciato ma mai fino in fondo vissuto, praticato. Di una timidezza nel rinnovamento di politiche e idee che non è stato compensato dalle scelte pure necessarie di una nuova classe dirigente o delle primarie per la scelta dei parlamentari. E il messaggio dell'8 dicembre è stato anche in questo. voi le occasioni per cambiare le avete avute ma non le avete raccolte. Adesso vi diciamo che tocca ad altri che una parte di noi non venendo meno alle proprie convinzioni pensa che sia giusto investire su altri. Ora, cosa questo voglia dire e cosa sia destinato a produrre in parte è davanti a noi. Lo dico perché la segreteria di Renzi è iniziata con un piglio e un metodo che nessuno può sottovalutare nei suoi effetti a breve. Rapidità sintonia con una sterzata di toni e tempi delle scelte un dinamismo in larga misura sconosciuto la mia impressione è che anche lasciando a margine la retorica sul decisionismo noi siamo davanti ad un cambio radicale nel modo di intendere la politica e di rappresentarla. E questo ci impone impone a noi di indossare lenti diverse per comprendere cosa sta accadendo e soprattutto per agire dentro questo nuovo contesto. Io lo dico perché quando attorno a te le cose mutano nella forma nel contenuto nella percezione che ne hanno milioni di persone l'errore più grande è proseguire con i tempi e con le modalità di prima di ieri e accettarlo non vuol dire precipitarsi a emulare quello che non si è a fingere di essere quello che non si è però vuol dire riflettere sulla natura del confronto e del conflitto politico restituendo al nostro punto di vista oltre che una prospettiva gli strumenti e la lingua di una sinistra vincente vincente e l'alternativa guardate vi avevo detto che sarei stato un po' rapido un po' brusco ma è solo per non rubarvi troppo tempo e allora lo dico così l'alternativa è farsi testimonianza anche nobile alta ma testimonianza e non è quello che noi vogliamo essere ecco pensare un'area politico-culturale dentro il PD capace di riaprire questo cantiere a chi oggi non se ne sente parte ha un senso se noi muoviamo da qui da questa premessa noi non siamo stati non siamo e non saremo mai la ridotta di una sinistra ostaggio dei suoi ritardi e gregaria allo spirito del tempo noi abbiamo cercato cerchiamo e cercheremo di fare due cose difficili diverse ma complementari la prima è restituire ad una sinistra rinnovata forza e attualità nel pensiero l'altra è fornire a quel pensiero gli strumenti della lotta politica e del potere nel senso più elevato che il termine ancora possiede il punto insisto è che lo dobbiamo fare in questo tempo con la massima profondità di analisi e comprensione dei processi che guidano l'uscita dalla crisi più lunga e più grave del secolo e insieme con la libertà di chi quei processi non vuole solo interpretare ma vuole governare nella loro difficoltà io lo so guardate può apparire una notazione astratta eppure sento che dobbiamo passare da qui da questa strettoia vivere la nuova stagione con la prontezza che ci chiede una società stressata da una democrazia impotente è una politica spesso bloccata nelle decisioni ma allo stesso tempo dobbiamo costruire alle spalle di quel dinamismo le fondamenta di una ripartenza di una riscossa perché poi la politica e il destino della sinistra non sono e non saranno mai la partita di una singola stagione per quanto importante la forza di entrambe della politica e della sinistra è nel conflitto in sé inesauribile per proiettare oltre il momento la sfida dell'emancipazione e di un primato della giustizia e dove questo conflitto si ritrae o si annulla la democrazia soffoca per carenza di ossigeno e il punto decisivo per noi è che in questo moto in questo moto costante la vera discriminante te lo racconta la storia sono poi i soggetti che quel conflitto determinano le forze reali che nella società si aggregano in vista di una loro affermazione si tratti di conquistare nuova cittadinanza nuova rappresentanza o nuovo potere e guardate posso sbagliare ma la mia impressione è che anche oggi sia così è così se guardiamo alla crisi di sistema che investe l'Italia è così se guardiamo alla fragilità del progetto europeo e ai rischi che per la prima volta dal dopoguerra investono il nostro modello sociale ed è così soprattutto e qui siamo sulla cronaca se guardiamo alla crisi democratica e alle prime ferite che sta producendo fino dentro il cuore delle istituzioni con una forza politica che sceglie di bloccare e anche questo non ha precedenti la libera espressione dell'attività legislativa io penso l'ho detto che oltre alle parole e a gesti inqualificabili cose indecenti ma che fanno parte di una pessima cronaca anche se lasciatemi dire che la violenza sessista contro le nostre colleghe e la presidente Boldrini segna un punto drammatico di non ritorno lo sfondamento di una barriera che non avremmo mai pensato potesse essere valicata in questi termini dicevo che oltre a questo deve farci riflettere il seme di un antiparlamentarismo che è sempre vissuto anche reclutando consenso dal basso chi conosce la storia di questo paese ne è ben consapevole ma senza penetrare mai se non in un tempo storico lontano e tragico che nessuno di noi ha vissuto senza penetrare mai dentro l'istituzione dove la sovranità popolare trova la sua espressione più alta io penso sia una cosa grave molto grave perché in questa prassi c'è il germe dell'assolutismo e forse anche la reazione scomposta per un'iniziativa politica che si rimette in movimento però c'è anche un punto che riguarda noi ed è la risposta che siamo in grado di offrire su un terreno così regredito ecco forse su questo dovremmo interrogarci sul fatto che da una parte c'è un quarto della rappresentanza eletta che teorizza e pratica una linea di disordine istituzionale io non lo voglio chiamare eversione istituzionale ma certamente di disordine profondo sul piano istituzionale e dall'altra c'è un campo di forze dove noi siamo l'elemento centrale che possiede tutte le parole per contrastare un comportamento così irresponsabile sto finendo no sto finendo era un commento al fatto che vi vedevo uscire con no no ero ho detto devo aver detto qualcosa o di particolarmente grave o di allora facciamo uscire le colleghe e i colleghi che devono andare a votare dicevo che dall'altra c'è un campo di forze dove noi siamo l'elemento centrale che possiede tutte le parole per contrastare un comportamento così irresponsabile ma la domanda che io vorrei porre a me stesso a tutti voi è un'altra e cioè se questa è la frontiera che viene aggredita l'ordinamento costituzionale la sovranità del Parlamento noi noi quante forze e quali soggetti siamo in grado di mobilitare oggi in Italia contro una deriva di questo genere o se volete oltre la parte più consapevole della società quanto è radicata oggi l'idea del Parlamento e della rappresentanza come pilastri del patto repubblicano e quanto è solido il principio che siano quelle le sole garanzie per uscire da questa crisi drammatica con gli strumenti e i principi di una politica democratica ecco questa a me pare la domanda o almeno una delle domande fondamentali che ci dobbiamo porre alla luce delle vicende di questi ultimi giorni ed è per questo che sono convinto della necessità al netto di valutazioni diverse che sono legittime e che io stesso ho espresso nella direzione del nostro partito da questa stessa tribuna da cui vi sto parlando adesso qualche giorno fa sono convinto della necessità di portare a termine a compimento quelle riforme costituzionali e della legge elettorale che in questo passaggio della storia repubblicana diventano la frontiera vitale se noi vogliamo uscire dalla crisi italiana per una via democratica e a mio parere questo è anche il legame tra il capitolo delle riforme e un dramma sociale senza precedenti con milioni di persone lo sapete che la crisi ha impoverito nelle speranze di vita e che in assenza di una reazione adeguata dello Stato e della politica possono piegare verso un rifiuto di entrambi io lo dico pensando che esista un legame stretto tra una democrazia che torni non solo a governare e dunque a prendere decisioni ma a rappresentare il paese cioè dare voce e un volto a chi sente di essere stato derubato in questi anni di mezzi e di risorse economiche e culturali perché poi un lavoro il reddito uno status prima di tutto sono questo per milioni di persone sono questo sono la tua identità e allora io continuo a credere che lasciare una parte larga di queste donne e di questi uomini milioni di queste donne e di questi uomini fuori dal Parlamento non sarebbe né utile né saggio come non è ragionevole confermare le liste bloccate e uscire dal Parlamento con una legge che sulla maggiore violenza operata da Calderoli l'aver tolto ai cittadini il diritto di scelta del loro rappresentante di fatto lascerebbe quello snodo non risolto siccome la crisi di fiducia verso le istituzioni viene anche da lì io dico che migliorare la legge su questi punti è un dovere politico e persino di fronte alla qualità della crisi democratica del Paese un obbligo di ordine morale e anche qui però con la stessa convinzione io voglio ripetere che il processo questa volta deve arrivare in fondo dobbiamo esserne consapevoli e tutti noi deve arrivare in fondo perché un fallimento eventuale non ricadrebbe su di uno o su di una parte ma colpirebbe l'autorevolezza residua di una classe dirigente vissuta da troppi come la radice del problema e su questo punto io credo che nei giorni scorsi voglio ringraziare i colleghi e i colleghi della Camera nei giorni scorsi noi ci siamo comportati con una grande lucidità politica e penso sia stato un atteggiamento apprezzato dobbiamo seguire questa bussola facendo in modo che dubbi e posizioni critiche espresse da tanti commentatori studiosi trovino ascolto nel percorso che si è messo in movimento e la nostra funzione proprio la nostra in questo senso è preziosa già lo si è visto nelle settimane nei giorni passati e prima dell'11 febbraio quando la legge è calendrizzata per l'aula io sono perché noi promuoviamo un seminario un incontro pubblico aperto a tutto il PD e a interlocutori esterni con al centro miglioramenti del testo della legge sui tre principi di fondo la stabilità dei governi il valore della rappresentanza e la necessità di ricuscire un rapporto che oggi appare compromesso tra società e politica tra cittadini e istituzioni avremmo detto un tempo tra popolo e democrazia senza il quale senza la ricucitura di questo rapporto la stessa riforma rischia di guardare la terra dall'alto detto ciò noi dobbiamo stare alle regole e agli impegni del partito del quale siamo parte la direzione ha votato una linea che accompagna all'accordo sulla legge elettorale una riforma costituzionale col superamento del senato e guardate non è un dettaglio non è un dettaglio anche perché la previsione di due premi di maggioranza potenzialmente diversi tra camere e senato implica una evidente incostituzionalità della legge che noi stiamo per discutere questo significa che quelle riforme debbono procedere in modo parallelo e che rientra appieno nell'impianto approvato dalla direzione la richiesta di votare quegli emendamenti capaci di votare quegli emendamenti come gruppo parlamentare capaci di vincolare l'applicazione della nuova legge al superamento effettivo della camera alta ripeto lo ripeto ancora una volta nessuna volontà di rallentare questo processo meno che mai di impedirlo per quelle ragioni di fondo che ho cercato di richiamare in questi minuti in gioco è davvero il destino della democrazia italiana e tra tutti i difetti che possiamo avere quello che non ci appartiene è un'assenza di responsabilità verso il paese fare la riforma elettorale è un dovere nostro e dell'attuale classe dirigente fare in modo che dal Parlamento esca una riforma credibile e applicabile è una necessità della Repubblica e questa bussola io credo noi dovremo seguire sapendo che la legge per come nasce per come viene vissuta ha già delle ricadute sulla politica e sul futuro delle alleanze lo avete letto ieri mattina Casini ha annunciato in un'intervista che aveva certamente il dono della sincerità la sua intenzione di tornare a destra scelta civica divisa al suo interno vede abbastanza dissolta la ragione stessa della sua scommessa Berlusconi è uscito è l'unica citazione che mi permetterò di fare su questo punto ma forse è doverosa è uscito dall'isolamento e ha riacquistato la centralità piena nel suo campo funzionando di nuovo come calamita della diaspora e anche tutto questo per onestà va detto è sotto i nostri occhi cioè forze diverse e minori che in tempi successivi si erano affrancate dal nucleo storico della destra sono oggi risospinte sotto il vecchio ombrello ne parleremo ancora ne parleremo anche in altre sedi ma è un primo effetto politico della nuova segreteria e della nuova strategia che è stata adottata dopo il congresso adesso c'è da sperare e lavorare affinché non sia solo il nostro campo il nostro partito a scegliere la strada di una battaglia solitaria perché al punto in cui siamo sarebbe questa sì una scelta incomprensibile non a caso Renzi stamane ha precisato che non accadrà e questo lasciatemelo dire al netto di errori e di ambiguità che da febbraio in avanti hanno segnato il cammino dei nostri amici e compagni di SEL come sapete oltre che sul versante delle riforme le prossime settimane saranno decisive per la ripartenza del governo della sua iniziativa e di un'immagine che gli ultimi mesi hanno visto logorarsi giovedì se l'appuntamento è confermato la direzione discuterà il programma per il 2014 io credo giusto arrivarci con un contributo di merito ma qui ci saranno interventi dopo la mia introduzione che diranno cose molto più precise io personalmente continuo a credere che sia saggio tenere assieme uno scarto nei contenuti a partire dalla parola chiave redistribuzione con il profilo di un esecutivo che recuperi autorevolezza e prestigio e non so dire se siano obiettivi compatibili con un semplice aggiustamento o rimpasto termine odioso a tutti ma che non ha molti sinonimi concettuali del governo che c'è io nel mio piccolo ho cercato di spiegare perché a fronte di un quadro mutato nelle alleanze nelle gerarchie dentro gli schieramenti era più opportuno un messaggio di discontinuità il che voleva dire e ancora equivale alla nascita di un nuovo governo in grado di mettere mano a una redistribuzione lo dicevo di risorse che è la sola condizione per impedire un precipitare del dramma sociale offrendo peraltro il Parlamento il tempo necessario a completare le riforme finora si è scelta una strada diversa più tattica e meno frontale rispetto al clima pesante e spesso esasperato che tutti registriamo con una escalation del malessere sociale e delle sue implicazioni guardate c'è anche in questo un elemento di semplificazione o di scarsa generosità rispetto alle cose buone che il governo ha incardinato e provato a fare io di questo sono convinto sono convinto come della scarsa generosità che vi diceva all'inizio nella chiave del congresso potrei citare la conversione venerdì pomeriggio del decreto sulla terra dei fuochi un ottimo provvedimento anche coraggioso nella sua ispirazione ma potrei anche citare nella legge di stabilità per citare il provvedimento più significativo e meno amato le soluzioni che erano rivolte a contrastare l'impatto della crisi su intere categorie di lavoratori imprese del blocco dell'aliquota IMS per le partite IVA il fondo di garanzia sul credito tutto questo è vero verissimo ma resta l'immagine di un governo di compromesso e di transizione è impotente ad aggredire i meccanismi consolidati della rendita è inadeguato nell'aggredire la madre di tutte le battaglie restituire una speranza di ripresa alle fasce sociali più colpite e che sentono per intero l'angoscia di una miseria incombente morale e materiale io credo che noi questa realtà la dobbiamo vedere proprio vedere per tante ragioni ma al fondo perché esattamente qui vive il bisogno di una sinistra che sia attrezzata a pensare il mondo dopo la crisi e dopo la destra e cioè nel dovere di ridare un ordine alle priorità e anche una gerarchia ai nostri valori perché guardate è verissimo non vi ruberò tempo su questo ne abbiamo parlato altre volte ma la crisi questa crisi senza eguali senza precedenti ha cambiato tutto ha scardinato certezze defraudato la classe media e le generazioni entranti di molte delle sicurezze maturate nei decenni dei padri questa crisi ha seminato tendenze culturali distorte aspettative di vita che hanno già modificato i rapporti di potere dentro società sempre meno subordinate alle vecchie appartenenze di classe di censo e come abbiamo ripetuto alla noia la povertà si è ramificata cambiando pelle cambiando natura mentre la ricchezza si è concentrata modificando il suo tratto morale perché c'è un tratto morale della povertà della miseria c'è un tratto morale della ricchezza in una logica dello scambio parliamo della ricchezza che ha visto il principio di redistribuzione lasciare il campo ad una concessione ideologica della carità la carità è una parola molto bella molto intensa ma forse mai come oggi i miliardari americani hanno distribuito risorse superiori a qualsiasi nostra finanziaria per colmare i guasti di quella diseguaglianza che i loro profitti smisurati almeno in parte hanno contribuito a determinare e in questo non c'è nulla di cristiano quella parola è bella intensa e profonda nella sua radice cristiana non c'è nulla di cristiano casomai è la forma che ha assunto un capitalismo finanziario alla ricerca di una giustificazione etica verso dinamiche sociali incompatibili con qualunque ordinamento democratico fa riflettere questa cosa l'impressione a sette anni dall'avvio della crisi è di una spinta potente verso rivendicazioni materiali da parte di un popolo disgregato ma che conosce la natura del bisogno lo sa il bisogno sa che cos'è un lavoro l'assistenza medica i fondamenti del welfare un reddito e che però non trova uno sbocco razionale di quei bisogni nella rappresentanza compartiti ancora capaci di aggregare un consenso largo penso a noi a Grillo alla destra ma in difficoltà nell'agganciare quel consenso alle basi di una cultura politica e di una identità sociale per un paio di decenni un po' tutti anche a sinistra ci siamo illusi che quelle basi potessero derivare dall'economia e dagli scenari delle sue riforme in parte solo in parte questo è accaduto negli anni 90 anche se le soluzioni indicate allora oggi appaiono l'ombra della risposta che l'occidente rivendica e allora la prova per noi diventa un atto di rottura consapevole ma di rottura nel superamento di un'economia come scienza politica che tutto domina e nella riscoperta di una radice morale dell'agire pubblico e del governo delle risorse la sinistra che immaginiamo non deve chiedere scusa e neppure cercare a posteriori le difese dello scarso coraggio dimostrato finora la sinistra per conquistare cuori e coscienze deve leggere la crisi con gli occhi dei più offesi e deve ripartire da una domanda di giustizia talmente incontenibile da rovesciare l'ordine che ha dominato gli ultimi tre o quattro decenni ora tutto questo vuol dire sfuggire alla realtà alla concreta la durezza della realtà io penso sia esattamente l'opposto vuol dire leggere i conflitti i conflitti spaventosi che si generano attorno a noi e dentro di noi senza perdere di vista ciò che li origina e non solo le loro ricadute prendiamo qui ci sono amici e compagni del Veneto e della mia regione prendiamo la ricetta svedese per la crisi della vecchia Zanussi si dice che bisogna tagliare c'è un deficit di produttività una volta di più la casa madre ha fretta di delocalizzare dove il costo del lavoro è minimo su questo copione c'è poco da aggiungere una sceneggiatura che conosciamo salvo il fatto che mentre gli svedesi comunicano tagli ai salari di operai già penalizzati la Samsung annuncia il lancio sul mercato globale di una nuova generazione di elettrodomestici intelligenti il che equivale a un vantaggio competitivo destinato in breve tempo a mettere la multinazionale di Porcia di Treviso di fronte alla verità che tu puoi delocalizzare scendendo i gradini della scala delle tutele del lavoro tu puoi colpire i salari sino a mortificare la carne ma se non ti poni il problema della qualità del tuo prodotto qualunque soluzione tu possa immaginare verrai sconfitto sul terreno dell'innovazione e della domanda ecco una sinistra che di fronte a questi processi si divida tra il campanilismo friulano e quello veneto è destinata all'impotenza e ad essere semplicemente travolta e bene ha fatto il ministro Zanonato a replicare il consenso di responsabilità ed equilibrio ad una polemica che non avrebbe neppure dovuto cominciare è solo guardate è solo un esempio è solo un esempio io ho scelto questo anche per ragioni affettive territoriali campanilistiche è solo un esempio ma aiuta a capire in particolare aiuta a capire il legame che c'è tra processi di ristrutturazione industriale e di nuova vocazione strategica di interi settori nazioni continenti è insisto nel dirlo il fondamento culturale di una politica che non rinuncia a tenere assieme le libertà e i diritti della persona con le regole del mercato siamo ben oltre il confronto tradizionale tra ciò che è pubblico e ciò che non lo è e non c'entra nulla credetemi il vecchio statalismo qui siamo di fronte alla domanda su come la sinistra è in grado o meno di rappresentare una mappa di interessi e bisogni che solo in parte riproducono le logiche interne al ruolo dello Stato dei partiti tradizionali di sindacati anche battaglieri ma costretti a combattere a mani nude contro poteri molto più attrezzati forse ci si può spingere a dire così questa crisi mette tutti di fronte ad una realtà a lungo rimossa che il libero mercato come verità storica ontologica non esiste perché ogni mercato ha regole e confini che limitano una libertà di scelta e in effetti la storia del capitalismo è l'eterno scontro sui limiti da porre al mercato e per la sua natura politica la definizione di quei limiti è stata segnata spesso da conflitti violenti ma è esattamente questo riconoscere che i confini del mercato non possono essere determinati in modo oggettivo a farci capire che l'economia non è una scienza pura e non può essere la ragione dominante della politica tornare a dirlo non è una scelta banale anche in rapporto alla cronaca pensa allo scandalo dell'Inps e del suo presidente multicarica ma potremmo scomodare i soliti stipendi dei manager e la radice di quella crisi salariale senza eguali che molte cose determina tu apri il giornale la mattina ed è come se ogni volta ogni singolo evento vivesse una storia a sé quando non è così perché tutto ha un'origine al netto di deformazioni e patologie e questo santo graal fu trovato più di 30 anni fa quando si sostenne che i manager dovessero venire remunerati in base a quanto erano in condizione di dare agli azionisti e per poterlo fare bisognava massimizzare gli utili tagliando il costo del lavoro gli investimenti le giocenze di magazzino i quadri intermedi perché solo così avresti potuto distribuire la maggior parte degli utili tramite dividendi o l'acquisto di azioni non era mica il destino della storia è stata una politica economica un'alleanza della cerchia ristretta in vetta alla piramide manager azionisti professionisti mentre la base della piramide iniziava la sua lunga traversata posti di lavoro tagliati meno innovazioni di prodotto delocalizzazioni ecco perché la diseguaglianza nella distribuzione del reddito è aumentata in modo devastante e da lì il debito privato e tutto ciò che di questa crisi abbiamo discusso migliaia di volte fino alle tabelle dell'istat o della banca d'italia sulla concentrazione della ricchezza anche nel nostro paese e all'effetto di una crisi che ha spinto una quota di ricchi sempre più lontano dal mondo risucchiando tante delle risorse migliori verso il basso guardate per quel che vale è curioso che questa idea della massimizzazione del valore per gli azionisti sia stata coniata dal più famoso amministratore delegato della General Electric e questo signore in un'intervista di qualche tempo fa ha confessato che quella forse è stata virgolette l'idea più stupida del mondo chiuse virgolette che manco ti resta da dire che siamo ridotti così a causa di una formula geniale però questo è il punto diciamo uno dei punti e allora se siamo la sinistra vuol dire ad esempio riconoscere che quando parliamo di diritti diritti umani civili sociali noi poniamo esattamente questo problema non è solo una questione di welfare e di difesa del suo impianto il punto è che in quel modello sociale oggi a rischio c'è una leva alternativa della crescita che è parte della nostra storia i diritti come una formidabile leva della crescita ed è la ragione che spinge a ricostruire l'economia dal punto di vista delle sue finalità perché poi è con questa ambizione che la sinistra dovrebbe misurarsi se davvero questa è la crisi peggiore del secolo varrà pure la pena di spingersi oltre i confini che non abbiamo avuto il coraggio di superare dicendo alcune verità e la prima scontata è che ci sono diversi modi di organizzare il capitalismo il liberismo è solo uno di questi e soprattutto è quello sbagliato gli ultimi 30 anni hanno dimostrato che quel modello rallenta l'economia aumenta la diseguaglianza crea insicurezza porta un numero esagerato di crolli finanziari la seconda è che se vogliamo limitare i rischi di un'altra crisi tanto devastante bisogna proibire strumenti finanziari eccessivamente complessi la terza è la sfida è costruire un sistema dove l'arricchimento abbia il suo peso ma non diventi l'unico obiettivo anche qui c'è una radice etica organizzazioni aziende ministeri devono premiare la fiducia la solidarietà l'onestà la cooperazione la quarta verità è nel trovare un equilibrio diverso tra la finanza e l'economia reale una moderna economia produttiva non può esistere senza un settore finanziario sano la quinta è in una riforma profonda dello Stato efficienza certo e contrasto degli sprechi ma anche una maggiore attività nel senso di una società più equa e più stabile dobbiamo pensare in modo creativo come il governo può diventare un elemento essenziale in un sistema dotato di maggiore dinamismo e di livelli di eguaglianza più accettabili significa costruire uno Stato sociale migliore un sistema di regole più adeguato ricostruire una politica industriale questo è un problema degli Stati nel caso nostro italiano aggravato da ritardi antichi ma guardate che è anche il problema enorme di una governance globale che è venuta drammaticamente meno io non so se ieri mattina qualcuno di voi lo ha letto ma ne ha parlato ieri mattina Guido Rossi in un articolo bello sul Sole lui ha scritto di un mondo scortato scortato lo dico io lui usava un termine diverso da meno regole meno regole perché governato da istituzioni sempre più fragili dall'ONU alla NATO passando per le altre istituzioni globali il cuore del potere si è trasferito ma solo in apparenza al G7 8 20 o nelle organizzazioni spesso impotenti destinate a occuparsi di clima salute e commercio dove appunto lo spazio degli ordinamenti delle regole ha lasciato campo ai contratti e a una logica dove il più forte ha tirato la coperta dalla sua parte a me pare un discorso molto serio molto serio perché in fondo non era un destino che nella crisi il 95% della ricchezza prodotta finisse nelle tasche dell'1% più ricco e il presidente degli Stati Uniti che forse ha molti problemi ma lo ha compreso e a modo suo sceglie di farsene carico non solo piantando la bandiera più simbolica che concreta ma i simboli sono importanti eh di un salario aumentato nel suo minimo orario ma annunciando un programma di governo che ha un titolo rivoluzionario nella sua semplicità perché dice opportunità per tutti a marcare la priorità di una lotta alla diseguaglianza dai salari alla politica fiscale e lo fa il presidente degli Stati Uniti sfidando su questo terreno il suo stesso congresso pronto a trattare e a contrattare questo nuovo corso direttamente col mondo economico e delle imprese per alcuni può essere una nuova svalutazione del potere legislativo persino nello stato più potente del mondo certo fa riflettere molto sull'impatto che la crisi più grave del secolo ha prodotto anche in termini di disordine nelle regole della politica e dell'azione dei governi gli economisti conoscono il prezzo di tutte le cose e il valore di nessuna è la definizione memorabile di Oscar Wilde io penso per le ragioni che ho provato a dire che la politica e la sinistra debbono di nuovo coltivare il loro campo e riuscirci in parte almeno è anche una responsabilità nostra ecco finisco su di noi per fare queste molte altre cose serve organizzare un'area che abbia degli obiettivi semplici ma per questo nostro tempo ambiziosi io potrei e forse dovrei dire a questo punto che non vogliamo dar vita ad una nuova corrente fate conto che l'abbia detto è una frase che in questi anni io ho sentito spesso anche da questa tribuna e solitamente da chi una nuova corrente la stava attrezzando o ne curava con amore il mantenimento non lo dico per criticare lo dico pensando che a noi spetta di riorganizzare un campo fuori e dentro il PD perché credo che la sinistra sia molto più di quel 18% che abbiamo raccolto l'8 di dicembre e penso che fuori da noi viva una domanda di nuovi concetti nuove parole che la politica stenta ad elaborare io penso che questa fatica fatta di ricerca di iniziativa non possa risolverci unicamente dentro noi stessi nel senso che non possediamo più se mai le abbiamo possedute tutte le risorse le competenze i saperi senza i quali l'obiettivo si allontana perché è difficile è difficile è impegnativo in questo senso la complessità è un dato del mondo e come tale investe anche noi il nostro modo di discutere di decidere la prova non è fare una battaglia dentro il PD per me ve lo giuro non era quello neppure l'obiettivo ultimo del congresso e tantomeno può valere adesso dopo un risultato così chiaro nel suo messaggio nelle sue dimensioni ma neppure possiamo rinunciare ad un'idea alternativa della politica e del ruolo del partito la prova è come far vivere questi bisogni questo sguardo che muove sempre dalla cronaca dalla cronaca ma non rinuncia alla lunghezza all'ampiezza in un partito che della sinistra è anima e parte che lo sarà sempre di più anche con la scelta giusta e da applaudire del nuovo segretario di avanzare nella direzione credo del prossimo 14 febbraio la proposta di ingresso ufficiale del nostro partito nel partito del socialismo europeo noi non vogliamo essere la sinistra del PD noi pensiamo che bisogna rifondare la sinistra e con essa rafforzare il nostro partito per aiutarlo nell'impresa fondamentale chiudere questa transizione infinita e portare l'Italia dentro una nuova stagione della sua storia ho detto all'inizio del bisogno che sento di dare a quest'aria un fondamento politico e culturale insieme anche un assetto nella direzione delle solide basi organizzative guardate lo so io e sapete bene voi che l'esperienza fatta è stata in alcuni momenti fatta in questi mesi da tutti noi faticosa anche per delle differenze intorno a questioni di merito al modo di interpretare l'ultima stagione allo sguardo da avere sul dopo anche sulla base di queste differenze si sono consolidati nel tempo dei binari paralleli dei convogli non so come definirli penso alle iniziative di rifare l'Italia al percorso di fare il PD ma penso anche alla costituente delle idee all'impegno sperimentato di un'associazione come Lavoro e Welfare al laboratorio della sinistra alla scelta di riunirsi e discutere di un gruppo di parlamentari che non si riconoscono in nessuna di queste esperienze io in questi mesi ho partecipato a vari momenti promossi da queste realtà e vi ho trovato sempre pure nelle differenze una volontà di costruzione ed uno spirito di unità che restano per me è la bussola del cammino e non si tratta di negare del resto che senso avrebbe l'autonomia di questi percorsi però insisto dobbiamo capire assieme se siamo convinti di poter dar vita a quell'area più vasta e comprensiva che serva a raggiungere almeno alcuni degli obiettivi che ho provato a richiamare in questa introduzione come sempre di estenuante lunghezza sia nella dimensione istituzionale e dell'impegno parlamentare sia nella dimensione più politica e articolata sul territorio dove il nostro compito è rimotivare una parte della sinistra che pure nonostante l'ostacolo apparisse insuperabile guardate riempie il cuore a me ancora a settimane di distanza riempie il cuore pure l'ostacolo sembrava insuperabile ha scelto nel congresso di stare da questa parte e di imboccare il sentiero più ripido insomma io ci ho pensato tante volte in questo mese e mezzo ma oltre mezzo milione di persone secondo me non debbono essersi sbagliate non si sono sbagliate e io sento davvero lo sento sul piano personale un dovere di lealtà nei loro confronti guardate se posso rubarvi l'ultima parentesi che non è solo personale anche la scelta di dimettermi dalla presidenza del partito non è stata vi prego di credermi la reazione di impulso per una battuta scivolata via o per un'offesa gratuita gratuita che pure così insomma non ti fa piacere per quel tanto di orgoglio che alberga nell'animo di ciascuno di noi per come sono fatto io mi sono interrogato e continuo a farlo sulla opportunità di quella decisione e so che alcuni tra noi non l'hanno condiviso o perlomeno non ne hanno condiviso le modalità piuttosto solitarie però poi ci sono decisioni che si prendono da soli pesando benefici e rischi detto ciò a mio avviso era il modo in quel momento di segnare un punto fermo l'idea che si debba contribuire a questa nuova stagione con tutta l'autonomia e l'orgoglio di quella parte non piccola che ci chiede adesso persino più di prima di rappresentare un punto di vista e una coerenza io per una fase mi metto a completa disposizione di questo progetto consideravo la presidenza dell'assemblea un fatto che onorava me e riconosceva lo sforzo che avevamo compiuto tutti assieme ma forse è meglio più giusto avere la piena disponibilità delle proprie convinzioni per dedicarsi a questo lavoro di ricostruzione in uno spirito unitario verso un nuovo gruppo dirigente e una nuova leadership secondo me guardate un bel viaggio quello che abbiamo davanti e io lo affronto con qualche convinzione in più rispetto a qualche mese fa e ve lo dico a cuore aperto non voglio che ci nascondiamo le diversità ma sono convinto che possiamo tenere assieme che dobbiamo tenere assieme quello che abbiamo seminato e siccome noi abbiamo seminato del buono e del giusto noi abbiamo perso io ho perso ma noi abbiamo seminato del buono e del giusto sarebbe uno scioppio ignorare adesso la cura della terra e il tempo della raccolta e da un punto di vista operativo penso che dobbiamo dotarci di un coordinamento che non può essere composto solo da parlamentari ma deve coinvolgere da subito i territori gli amministratori esponenti di quelle forze e movimenti che hanno condiviso con qualche coraggio la nostra sfida io chiederò ai deputati ai senatori ai parlamentari europei di indicare le figure disponibili più adatte a svolgere questo compito e lo stesso è bene che avvenga a livello regionale con una particolare attenzione alle grandi aree metropolitane dove è fondamentale costituire nelle prossime settimane i coordinamenti di quest'area in alcune realtà questo lavoro ha un profilo più avanzato anche dal punto di vista organizzativo ma adesso lo dobbiamo articolare ovunque sia possibile anche per affrontare meglio i passaggi che abbiamo davanti in fondo e lo riconosco io per primo sui congressi regionali abbiamo proceduto in maniera troppo disordinata adesso c'è un passaggio elettorale rilevante il turno amministrativo e soprattutto c'è da affrontare la questione importante delle candidature alle elezioni europee dell'impostazione di quella che sarà una campagna elettorale difficilissima ma decisiva io affiderei a questo coordinamento che deve riunirsi presto il compito di convocare in tempi rapidi la prima convenzione nazionale del progetto dove presentarci con un nome e un percorso che come ho cercato di dire avrà una forte radice territoriale ma un solido impianto culturale sono per dar vita poi a un gruppo di lavoro che mette appunto un progetto sulla comunicazione iniziare da un restyling del sito che nelle intenzioni dovrebbe assumere il carattere di un portale di informazione di dibattito banca dati per eventi e contributi e da un punto di vista politico e organizzativo abbiamo bisogno di una cabina di regia con alcune responsabilità precise anche per avere dei riferimenti e banalmente dei numeri di telefono necessari in una fase di costruzione della rete ci sono voci che non possono essere più rinviate che riguardano appunto la nostra organizzazione i riferimenti territoriali il calendario delle iniziative e soprattutto la circolazione delle informazioni tra di noi ecco non chiedetemi il perché perché non saprei darvi una risposta razionale ma io sono ottimista sono ottimista sul futuro del PD dopo questo congresso sono ottimista sulle risorse sulle energie morali e politiche della sinistra sono ottimista su di noi perché guardate al netto di tutto noi in questi mesi almeno per me è stato così e non sapete con quale sentimento io vi ringrazio di questo al netto di tutto noi abbiamo imparato meglio a conoscerci ad ascoltarci a rispettarci forse ho già usato questo riferimento questa citazione in passato ma non me ne viene una di migliore come diceva quel genio di Flaiano coraggio il meglio è passato ecco per noi per noi vale l'opposto io ne sono convinto profondamente convinto ho cercato di raccontarvi questo pomeriggio perché ne sono convinto per noi vale l'opposto e vi dico coraggio il meglio è tutto davanti a noi e adesso è tempo di ripartire vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti